Altra motocicletta, Moto Guzzi Super Alce, una moto del 1943, anche questa in dotazione ai bersaglieri. È una motocicletta che ha partecipato durante la Seconda Guerra Mondiale alle varie fasi, anche in Africa. Molto caratteristico il discorso del secondo sedile con i manubri per il passeggero. Una motocicletta che fa vedere già il passaggio tecnologico con una forcella parallelogramma e i vari ammortizzatori anteriori. Tra l'altro tengo a precisare che questa motocicletta ritargata come veicolo storico è totalmente funzionante, quindi può andare in moto e può camminare tranquillamente su qualsiasi tipo di percorso. Bene, quindi la velocità di punta qui sembra 110 km orari, esattamente. Ripetiamo l'anno? 1943 Quindi durante la Seconda Guerra Mondiale Ed è ancora funzionante? Ed è ancora funzionante, esattamente. Grazie